Anche perchè il Jusau, il giocoforza deve uscire perchè si riprende da te che ci trovi, ok? Quello che è in più il Jusau è che ti obbliga per forza a girare la mia centrale sul punto di contatto quello che è un pochettino più difficile, no? Voglio dire, quel Jusau è un classico zoom che rimane a qua, se la mia centrale è di là quindi devo fare un pochettino più di fatica per aprire, spostarmi e entrare Con il Jusau, chiaramente, io posso fare un discorso di genere perchè me lo prendete quindi con il Jusau, per forza, se voglio usare il Jusau devo, per forza, conteggiare il punto di contatto, ok? quindi se mi piaccia di fare un'altra parte di qua, scherzo con zoom, ok? è chiaro come... ora, nel modificato per esempio fanno le linee che fanno termini sul posto e ruotano con la linea o ruotano con il dedo in questo modo, in questo modo, il Jusau è indietro no, ma qua dopo ok? ma quando noi veniamo nella scenità o nella pianforma il Jusau è avanti, non va indietro, ok? perchè loro non avevano spostamenti, ruotano sul posto, ok? nel momento in cui il posto non ha più senso anche in energia di andare costantemente in avanti, ok? perchè, nello spostarli io continuo a estendere verso di lui ok? quindi e a seconda di che principio ci sta la base, nel modificato non ci si muove, ci si muove il meno possibile o si è avanti solo, si ruota tantissimo sul posto invece che spostarsi, quindi che volta i principi devono cambiare, ok? tutto questo diciamo che questo è il seme dello stile, ok? una volta che voi sapete usare bene nel bagno, nel momento giusto il back, il blue, il chem, il bone voi avete in mano lo stile perchè qualsiasi altra tecnica che ne sono molte altre sono colorali potete spostare per la vita la sensazione c'è ancora il GAM SAO che serve soprattutto per i calci ok? e il chem per i calci e il BOSAO basso che è una variante, vedremo un attimino quando affronteremo i calci ma il cuore dello stile è questo, ok? queste quattro tecniche, i numeri sono al 500.000 quello che risalgono i testi sui due cittadini comunque è verticale, ok? che abbiamo visto nel primo episodio che sono in soliti territori ehm fatto questo vediamo un attimino i i colpi principali nel WI-C1, ok? nel WI-C1 si usa colpire con tutto tutto quello che è a distanza giusta per colpire perciò nel WI-C1 si usano principalmente i pugni ok? ma si usano tanto anche le mani aperte colpi di palmo, ok? ok? seconda ok? ricordatevi che le mani aperte sono molto più pericolose delle mani chiuse ok? perché un pugno vuol dire la superficie il palmo attraversa il colpo che è il corpo dell'avversario che è il proprio pulito fuori da lì dentro ok? in più usando le mani aperte le barce sono molto più duttili e molto più morbide no? di quando sono chiuse per quel dire ok? il pugno non è la migliore tecnica contundente che ha il proprio umano perché è quella più brossolana è quella che poi ti obbliga ti fa rischiare di più anche sulle articolazioni del polso no? perché basta minimo se non siete abituati e anche se siete abituati non può sempre capare questo rischio qua è quella più soggetta no? a rotture del polso o di articolazioni ok? abbiamo visto i pugni che possono essere pum 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 in diretti no? sopra sotto ok? normalmente il pugno vince uno è dritto ma non è dritto in questa maniera qua se voi lasciate il pugno morbido vedete che sta leggermente coricato ok? questa è una cosa naturale secondo questo vi aiuta a andare a girare con le ultime tenocce come quello che dovete fare ok? a ripetere i karateki che usavano le prime due no? ma per fare questo dovete disassare completamente positivo e soprattutto il pugno che non ha tutta questa forza a forza perché ora la scarica un più preso col cuore per l'impatto ma il pugno per sé non ha questa forza se non il pugno lì si dovrebbe impugnare la karateka no? invece che mandarsi K.O. no? all'ospedale con il pugno per cui girarsi che ho tagliato nel bottone ok? per cui ci usano il pugno il pugno il pugno il pugno sempre dal centro ok? come un tache tende a fare il petto ma per questo risposto che devi difendere il corpo con la bassista l'autatenica tende a andare il viale no? state occuparsi quando mi trovate a contatto state occuparsi poi quando il modo che lui vada a controllare il primo se invece il primo è vero se invece il primo è vero siete già fuori questo si spinge verso di voi e si sposta contemporaneamente ok? quindi molti vi dicono qual è la migliore tecnica nel guinchung? eventualmente il calcio al ginocchio appena quello si muove il pugnacatena il pugnacatena il pugnacatena è un'ottima tecnica devastante per entrare con una granmola di colpi un idragliatore non è una canonata gli ucini usano le canonate da tirarti no? perché la canonata si si ma se non lo prendo se non lo prendo ok? e lui ci rimetti si va a colpire solo esclusivamente quando sono sicuro al 100 per 1000 che lo riesco a colpire e non è esattamente qua ok? qua non è sicuro al 100 per 1000 che lo riesco a prendere ok? qua è sicuro al 100 per 1000 che lo riesco a prendere e indipendentemente tutto tanto neanche questo è sicuro non dirlo di fatto no? se è sicuro al 100 per 1000 se lo riesco a prendere giusto? ok? però adesso è una situazione in cui assolutamente lui non mi colpisce e io sono in grado di colpire lui quindi è un danno possibile per me no? per le immagini di sicurezza perciò mai cercate di colpire esattamente l'avversario quello che sta per i fronti mai voi siete sempre ingannati in questa maniera in modo che lui le inda e adesso basta arrivare un po' quello che avete ma non vi dico prima che non ci ricordate di non colpire il vostro avversario si e metterlo per terra e fare in modo che non si muova più ma come lo faccio questo? no? devo fare in modo che lui faccia i movimenti no? io devo solo prendere un contatto e da questo lo devo gestire guarda io più due volte e se non viene l'avversario a prendere il suo contatto non mi serve non mi serve ma nel momento in cui l'avversario c'è in grado di colpire io non voglio colpire io voglio solamente prendere un contatto io posso gestirmelo e trovarmi qua ok? che è quello che posso scaricare tutto quello che ho come tecnici è chiaro? come succede abbiamo detto avevo i pugni di mancù no? detto no? ok? come fa che non sono verso l'alto? un errore comune è quello di tenerli verso l'alto ma facendo tendo verso l'altro l'avversario di fronte messi di e questo è rivolto verso l'alto l'alto l'alto